Ciao, sono il professor Andrea Biasci e volevo parlarti del percorso più completo in Italia per diventare personal trainer, l'Invictus Academy. Perché è il percorso più completo? Perché lega realmente la teoria con la pratica. Quello che studi lo devi prendere e portare sul campo e ancorare questi due fattori ai risultati. Senza risultati non vai avanti. In questo modo, passo dopo passo, noi abbiamo strutturato tutto il nostro percorso. Questo non si può fare con una certificazione di qualche weekend che non va a formare veri personal trainer ma con un percorso più lungo. Se lo vuoi intraprendere ti aspettiamo nell'Invictus Academy.